Allora, è il momento del nostro quiz, noi abbiamo monitorato come redazione la vostra situazione ci siamo accorti che siete due bravissimi ragazzi, non c'è niente da dire Guzman una volta tanto, molto raramente fa un gol, ti è capitato di fare un gol? Sì, sì, si è capitato Ciarone ancora più raramente ogni tanto evita un gol, ti è capitato di evitare un gol No, ecco, però siete anziani, dovete pensare al vostro futuro questa è l'occasione che vi diamo, sostituire Tramezzani come opinionista a Gnocca Alciassone quindi che parta la sigla, il nostro primo quiz è chi vuole si attramezzare Bene Allora, vi farò vedere delle immagini, avete tre opzioni dovete prima, il primo che schiaccia il pulsante ha diritto a rispondere vediamo, controlliamo i pulsanti, Thomas prova ancora Thomas Ciarone Come sono collegati questi pulsanti, scusate Via satellite, quindi hanno un ritardo, ho capito, va bene ma basta saperlo, vai Thomas ancora tu Va bene, vai Va bene, ok Allora, vediamo queste immagini, vediamo le immagini le prime immagini sono di questo bambino Vedete l'abito, lui mette la mano e non gliela danno mai Ecco È una cosa veramente, guarda, poverino Durante Milan Udinese Ecco, perché i giocatori del Milan non stringono la mano a questo bambino? La domanda A, gliel'ha vietato la dirigenza perché quello è il nipotino di Di Pietro B, perché l'hanno visto due minuti prima e aveva le dita nel naso C, perché il bambino nella mano ha quello scherzo di Carnevale che ti fa la scossa e se ne sono accorti Thomas? B B, risposta esatta, molto bene Allora, andiamo con la prossima domanda Allora, vediamo, queste sono le immagini Questo è Mauro Zarate nel prepartita di Parma-Lazio Guardate Zarate, fotografo Allora, la domanda è questa Cosa sta fotografando Zarate? A, sta fotografando un evento irripetibile, cioè lo tito che offre un caffè al bar B, sta fotografando i compagni che si allenano così impara come si passa un pallone C ha visto Simone Inzaghi e Makinwa che si baciavano e li vuole ricattare Ciarone? Sicuramente C Sicuramente C, perfetto, siamo pari Allora, prossime immagini Vediamo le immagini Di Natale, Udinese, Milan Gli fa male la pancia, guardate, si tocca la pancia e lo dice anche Vole bene? Ecco, guardate, mi fa male la pancia Cosa è successo a Di Natale? A Si è dopato con il Bifidus extensis B, sta facendo una dieta particolare, mangia solo prugne C, prima della partita ha visto scusa ma ti voglio sposare di moce Questi sono gli effetti collaterali Vai Ciarone B Sbagliato B anche tu Si è dopato con il Bifidus Sbagliate tutte e due, quindi andiamo, siete ancora alla pari Tra mezz'anni rimane in sella ma avete la prova di riserva, abbiamo la prova di riserva Quindi SkySport 24 Non funziona il mio Perché c'è il satellite che non funziona Allora SkySport 24, vediamo Allora Allora